e a chi ci segue in diretta streaming. Oggi siamo qui in conferenza stampa alla Camera dei Deputati per presentare l'ultimo libro di Stefano Baudino, La mafia non è una cosa da adulti. Stefano Baudino è un giornalista che nonostante la giovanissima età si occupa e scrive di mafia da anni sin dai tempi del liceo e l'idea di questo libro nasce da una domanda che un suo amico un giorno gli rivolse a proposito della sua attività di scrittore. Per quale motivo ti stai occupando di cose da adulti? Ecco la mafia non è un argomento di cui dibattere solo tra adulti perché mentre noi ne dibattiamo la mafia stessa cerca nuovi adepti proprio tra i giovanissimi servendosi anche dei nuovi mezzi di comunicazione. In questo libro Stefano Baudino parla ai più giovani spiegando cosa è la mafia e perché va combattuta. Si parla di Cosa Nostra, delle sue strutture, dei suoi codici. Si racconta di Falcone Borsellino, del maxiprocesso, delle stragi del 92, della collusione tra mafia e politica e della penetrazione della criminalità nelle istituzioni. Come mi capita di ricordare spesso quando parlo di mafia e ragazze e ragazze, la mafia teme la scuola prima ancora che la giustizia perché diceva il giudice Caponnetto l'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa. Occorre dunque che famiglie, scuole, associazioni di volontariato, enti locali, destituzioni, oprino in rete per la costruzione di una società più civile e democratica della quale si sia fermamente convinti che vivere nella legalità e nella solidarietà è possibile e conveniente. Bisogna parlarne sempre e ovunque perché la mafia si nutre innanzitutto di silenzio. Oggi affrontiamo il tema con l'autore Stefano Baudino, con Alessandro Di Battista che come noto si occupa costantemente di lotta alle mafie parlandone, scrivendone, combattendola dentro e fuori le istituzioni e con Luana Ilardo, figlia dell'infiltrato Luigi Ilardo, ucciso a colpi di pistole il 10 maggio 1996. Con lei avremo modo di raccontare meglio la sua storia. Lascio adesso la parola a Stefano Baudino finché ci parli più dettagliatamente del suo lavoro e ci tengo a dire che mi fa veramente piacere che sia qui ed è veramente un vero onore poter presentare il suo libro alla Camera dei Deputati. Grazie. Allora grazie a tutti innanzitutto a chi è venuto qua ad ascoltarci, grazie di cuore all'onorevole Stefani Ascari per aver valorizzato questo libro portandomi qua, grazie a Luana Ilardo che ormai è diventato un'amica perché di battaglie insieme ne abbiamo fatte tante e continueremo a farle e grazie davvero ad Alessandro Di Battista che ho la responsabilità di aver riportato qua dentro dopo tanti anni dall'ultima volta e ne sono profondamente contento, devo dirvi la verità. Il libro che presentiamo oggi, La mafia non è una cosa da adulti che è uscito per Aliberti nello scorso giugno e ringrazio molto la mia casa editrice, si pone fondamentalmente tre obiettivi fondamentali. Quello di narrare carte alla mano in retroscena degli anni più caldi della nostra storia recente, in particolare il retroterra politico della stagione stragista di Cosa Nostra e i depistaggi che hanno segnato quella stagione tremenda e soprattutto l'entità dei lasciti umani, spirituali ma anche pratici, metodologici e anche normativi di Falcone e Borsellino nella lotta alla mafia e il cuore di questi lasciti lo vedremo è stato sapientemente disatteso da grossi pezzi di potere nel corso degli ultimi trent'anni. Il secondo obiettivo, e lo dice il titolo, è quello di far entrare organicamente questi temi all'interno delle scuole. Io nel mio piccolo ci provo svolgendo l'attività di collaboratore esterno di scuole e università con un modulo didattico sulla storia di Cosa Nostra, sullo stragismo di mafia, sulla trattativa Stato-mafia, ma basta affacciarsi a una scuola superiore per comprendere come non soltanto di questi temi non si parla mai, ma addirittura non si arriva neanche a fornire ai ragazzi gli elementi di base in senso storico, costituzionali, istituzionale e politico che costituiscono anche solo la piattaforma per poi occuparsi organicamente di queste tematiche, quindi siamo proprio all'anno zero da questo punto di vista. E poi c'è il terzo obiettivo, quello per cui siamo qui, stimolare le istituzioni a tornare sul binario dell'antimafia dei fatti, non soltanto di quello di facciata. Da questo punto di vista anticipo un po' quello di cui parlerò nei prossimi dieci minuti, a mio avviso il trentennale delle stragi di Capace e Via D'Amelio è stata una grandissima occasione persa. L'ultima relazione della DIA ci dice che la mafia ha radici molto solide non soltanto nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa, ma anche nelle regioni del nord e del centro Italia. Il paradigma imprenditoriale e l'utilizzo della violenza solo nei casi di extrema razio è ormai il combinato disposto vincente delle mafie di oggi. Si è arrivati alla normalizzazione culturale, politica del fenomeno mafioso tramite la strategia della sommersione di Provenzaniana Memoria. E questo è un dato molto interessante perché ha vinto la mafia sommersa e quindi questo ha prodotto anche la sommersione di una grande fetta di antimafia, di quella più combattiva. Appunto la sommersione mafiosa a livello economico e criminale è un dato assolutamente acquisito che comporta però effetti nocivi. Pensiamo soltanto al cosiddetto sistema Falcone, cioè a quell'oliato sistema di norme sapientemente partorito da Giovanni Falcone dai suoi collaboratori grazie all'esperienza del pool antimafia, grazie all'incarico ottenuto dallo stesso Falcone al Ministero della Giustizia e poi alle politiche cosiddette di emergenza post stragi, mi riferisco in particolare a un rigido 41 bis, all'ergastolo stativo per gli irriducibili, alla legge premiale per i collaboratori di giustizia, al concorso esterno in associazione mafiosa. Ebbene, basta sfogliare il corpus legislativo italiano per prendere contezza del fatto che il Parlamento ci ha consegnato la chiusura delle supercarceri, modifiche in difetto alla legge sui pentiti, modifiche al 41 bis in senso sempre meno rigido, solo per citare alcuni punti, e è molto triste doverlo constatare anche la riabilitazione delle figure più illustri della politica condannate per reati molto gravi come il concorso esterno in associazione mafiosa. E di attualità l'annoso tema dell'ergastolo stativo, giudicato non conforme dalla CEDU e dalla Corte Costituzionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani da un lato e alla Costituzione dall'altro, perché non risponderebbe al principio della rieducazione della pena. E qualcuno dovrebbe spiegare, proprio dal punto di vista ontologico, come questo principio di rieducazione possa essere apprezzabile ove un condannato per reati di mafia decida di non collaborare con lo Stato e quindi di non tradire la sua associazione mafiosa di appartenenza. E basta leggere quello che è il contenuto del testo recitato da coloro che ricorrono la punciuta per constatare come l'unico tradimento vero e proprio, ontologico, all'associazione mafiosa sia quello appunto della collaborazione con la giustizia. E questo meccanismo perverso potrebbe consentire ai boss stragisti del 92 che non hanno parlato e che molto sanno sui legami tra parati deviati dello Stato e mafia di tacere in attesa di un erosio futuro al di fuori delle patrie galere. Da questo punto di vista bisogna ammetterlo, la Meloni ha fatto un gesto significativo sull'ergastolo stativo perché, come sapete, ha trasformato in decreto la legge che era uscita dal Parlamento nella scorsa legislatura che, comunque, sebbene contenga numerose criticità è perlomeno un filtro e è riuscita a disinnescare quella mannaia della Corte Costituzionale che si sarebbe potuta verificare appunto nel mese di novembre, infatti poi si è pronunciata rimandando gli atti alla Cassazione. Ma io mi chiedo, se l'obiettivo di questo governo, della Meloni, è quello di rappresentare per davvero una destra legalitaria di borselliniana memoria, ecco mi chiedo che cosa ci faccia sullo scrano più alto del Ministero della Giustizia Carlo Nordio, addirittura la Meloni se vi ricordate ha rifiutato la candidatura della berlusconiana Casellati per lasciare il posto a Nordio, ma Nordio è più berlusconiano non solo della stessa Casellati ma addirittura di Berlusconi sul tema di mafia e giustizia. Lo ricordo, Nordio tra le altre cose è favorevole all'abolizione della legge Severino che prevede l'incandidabilità dopo le condanne, all'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, all'eliminazione dell'obbligatorietà dell'azione penale, ha sostenuto Nordio che l'ergastolo stativo è una eresia contraria alla Costituzione. Sul processo in merito alla trattativa Stato-mafia ne parleremo tra poco, un processo che, lo anticipo ma lo sapete molto meglio di me, ha messo alla sbarra per lo stesso reato illustri esponenti delle istituzioni e i vertici di Cosa Nostra per minaccia a corpo politico dello Stato, ecco, rispetto a questo processo Nordio ha detto, e cito testualmente perché è il Ministro della Giustizia, sono state create sofferenze indicibili e costionerosi a servitori dello Stato incolpati di un delitto senza senso, è un processo che non si sarebbe mai dovuto nemmeno ipotizzare, fa parte dei compiti dello Stato trattare con discrezione, occhio alle parole, con organizzazioni criminali nel superiore interesse della collettività. Mi auguro che la Corte non annulli la sentenza ordinando un nuovo processo, parla della Corte di Cassazione, perché questo calvario per gli imputati e per la stessa immagine dell'Italia dura da dieci anni e riguarda fatti asseritamente avvenuti oltre un quarto di secolo fa, cerchiamo di non coprirci di ridicolo e chiudere virgolette. Insomma il calvario per l'immagine dell'Italia non lo provoca il dato assolutamente accertato anche dalle sentenze di assoluzione che lo Stato intavolò un dialogo con i vertici di Cosa Nostra sul cadavere di Giovanni Falcone e poi lo continuò sul cadavere di Borsellino, ma il fatto che si sia istituito un processo per accertare le eventuali responsabilità penali degli imputati. E in più si dice è passato troppo tempo, dimentichiamocene, è un messaggio devastante questo, devastante. Su Bruno Contrada, ex numero 3 del SISD, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa dalla Cassazione, anche se poi l'accedo annullò gli effetti penali della condanna affermando che quando Contrada mise in atto quelle condotte che sono pienamente confermate il fatto non era previsto come reato, Nordio ha asserito che la condanna di Contrada e la sua successiva radiazione fanno inorridire. Numero 3 del SISD è condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. E appunto qua stiamo arrivando alle responsabilità morali della politica che gioca in maniera estremamente nociva su questa narrazione pseudo garantista che di garantista non ha assolutamente niente e bisognerebbe dirlo ad alta voce. Ecco come si demolisce l'importanza del concorso esterno in associazione mafiosa, riabilitando politicamente e mediaticamente che è stato condannato per un reato così grave. Basta vedere cosa è successo a Palermo quest'anno con l'elezione del nuovo sindaco. Marcello Dell'Utri condannato per concorso esterno in associazione mafiosa insieme a un altro condannato per un reato connesso alla mafia c'è Totò Cuffaro. Ecco loro due sono stati i principali sponsor della salita di Roberto Lagalla sulla poltrona più alta della città di Palermo. Voi ricorderete che il centrodestra aveva 7-8 candidati prima delle elezioni. Ecco l'ha spuntata il candidato di Dell'Utri e di Cuffaro nel trentennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio e io, questo voglio affermarlo in maniera molto concreta, non penso assolutamente che la Galla abbia avuto a che fare con quel tipo di mondo, anzi io personalmente pongo fiducia in lui e voglio augurargli buon lavoro. Il punto è che in un paese che muore di mafia, che muore di mafia, personalità politiche illustri che sono state condannate per concorso esterno in associazione mafiosa devono essere sbattute fuori dal circuito relazionale della politica e bisognerebbe sorprendersi del contrario. Questi invece non soltanto muovono le pedine alle amministrative ma uno di loro, Dell'Utri, addirittura fa le trattative per il Quirinale in questo paese al contrario. Io penso che in un paese normale Silvio Berlusconi, un uomo che da imprenditore ha finanziato almeno per 18 anni la mafia, questo lo dicono le sentenze definitive che è tuttora indagato tra i mandanti esterni delle stragi, ha avuto come braccio destro e cofondatore del suo partito proprio Marcello Dell'Utri, non possa neanche lontanamente ambire a diventare il nuovo capo dello Stato, eppure il nome di Berlusconi si faceva tranquillamente ai tempi. È stato anche votato da qualcuno in Parlamento, sembra tutto normale, tutto fisiologico, tutto naturale. È azzardato? È giustizialista affermare che questo leda all'immagine del paese, che queste siano le vergogne italiane. Io penso assolutamente di no, anzi penso che queste siano le precondizioni che dovrebbero accomunare tutti noi, che votiamo partiti diversi, che arriviamo da ideologie politiche completamente diverse, ma dovrebbe essere il comune denominatore per far ripartire una Repubblica. Questione giudiziaria, abbiamo qua Luana Ilardo, figlia dell'infiltrato Luigi Ilardo, e quindi si potrebbero dire tante cose sui processi in corso, sulle connessioni tra apparati deviati dello Stato e mafia, ma mi concentro in particolare sul processo, sulla trattativa Stato-mafia, fermo a una sentenza di appello. In primo grado i Carabinieri del Rosso e Marcello Dell'Utri sono stati condannati insieme ai vertici di Cosa Nostra per violenza o minaccia corpo politico dello Stato. Dalla stampa tolte, rarissime eccezioni, mutismo assoluto. Poi in appello gli uomini dello Stato vengono assolti, a differenza dei mafiosi, e il processo trattativa all'improvviso è tornato in prima pagina. Vi ricordo che già dal dispositivo di quella sentenza si capiva che i giudici avevano confermato la esistenza, la sussistenza di quella trattativa, di quell'invito al dialogo partorito dalle istituzioni nei confronti dei vertici di Cosa Nostra. Ecco, arriva la sentenza di appello, il dispositivo, la vacro purificatore. Via il fango resta l'onore, l'apertura del tempo. La trattativa Stato-mafia non esiste, secondo la verità, evidentemente non secondo la verità dei giudici. Imputati tutti assolti, anche Dell'Utri, smascherata la bufala di Berlusconi mafioso. Travaglio e compagni, sconfitto chi voleva riscrivere la storia? Questo è libero. Demoliti PM, Dell'Utri, dieci anni di fango, titolava invece il giornale. Non male come difesa per un condannato, definitivo per concorso esterno in associazione mafiosa. Per il giornale la trattativa è una farsa, un teorema. Viene dato addirittura spazio e la reazione ecumenica di Marcello Dell'Utri che dice ancora non ci credo, mi hanno infangato ma io posso perdonare. Cioè Dell'Utri che perdona di Matteo. Siamo al teatro dell'assurdo. Sul messaggero, titolo folgorante, assolti lo stato e Dell'Utri con la mafia non si trattò. Qualche settimana dopo Giovanni Terzi del Tempo intervista Mario Mori, riuscendo ad affermare, restando addirittura serio, che il suo interlocutore aveva definitivamente sconfitto la mafia. Finalmente uno scoop perché nessuno se n'era accorto. Poi purtroppo per gli imputati e i loro cantori che negavano l'esistenza della trattativa sono uscite le motivazioni. Cito testualmente quello che dicono le motivazioni della sentenza di appello di assoluzione per gli uomini dello Stato al processo trattativa e di condanna per i mafiosi. Il ROS, Mori, Subranni, De Donno, fece leva sulle tensioni e i contrasti che covavano dietro l'apparente monolitismo dell'egemonia corleonese per sovvertire gli assetti di poteri interni all'organizzazione criminale, assicurando alle patrie e galerie i boss più pericolosi e favorendo indirettamente lo schieramento che, per quanto sempre criminale, appariva tuttavia ed era meno pericoloso per la sicurezza dello Stato e l'incolumità della collettività rispetto a quello artefice della linea stragista. Quindi la passione provenzaniana e non quella di Rina. Gli interlocutori del possibile negoziato non erano già i vertici mafiosi genericamente intesi o addirittura Salvatore Rina, bensì i capi di quella componente dell'organizzazione mafiosa che fosse disponibile e interessata a defenestrarlo per insediare al suo posto una leadership per sua vocazione e convinzione propensa a cercare il dialogo per potersi dedicare proficuamente allo sviluppo dei propri affari piuttosto che attaccare frontalmente lo Stato in tutte le sue articolazioni. E dire che ci avevano raccontato che la mafia bisognava sconfiggere la Tukur, evidentemente non è così. E vi ricordo che l'obiettivo, secondo queste motivazioni dei Carabinieri del Ross, era quello dell'interesse generale, quello di salvarci dalle stragi. Eppure, che io ricordi, nel 93 le stragi, le bombe continuano a piovere sul continente, al nord e al centro Italia, fino ad arrivare al mancato, al fallito attentato allo Stadio Olimpico del gennaio del 94. Quindi se quello era l'obiettivo, quell'obiettivo tra l'altro non è stato raggiunto. Qualcuno di voi ricorderà l'episodio della mancata perquisizione e sorveglianza del covo di Totorina del 15 gennaio del 93, che vide come protagonisti proprio gli uomini del Ross, che furono assolti per quei fatti. I giudici di appello al processo trattativo a Stato-mafia affermano che tramite quella mancata perquisizione si intese lanciare un segnale di buona volontà, un segnale cioè della disponibilità a mantenere o riprendere il filo del dialogo che era stato avviato, per giungere al superamento di quella contrapposizione di Cosa Nostra con lo Stato che era già culminata nelle stragi di Capace e Via D'Amelio. Il significato di tale gesto era, soprattutto simbolico, dovendo esso servire a lanciare il segnale di buona volontà e di disponibilità a proseguire sulla via del dialogo. Quindi su questa scia il Ross decide di proteggere il nuovo capo di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, favorendone in modo soft, ancora occhio alle parole, la latitanza, limitandosi ad avocare a sé i vari filoni d'indagine che potevano portare alla cattura, ma avendo cura al contempo di non portare fino in fondo le attività investigative quando si fosse troppo vicini all'obiettivo, dal momento che la caduta di Provenzano, che avrebbe inevitabilmente fatto seguito a un suo arresto, avrebbe favorito il riemergere delle pulsioni stragiste mai del tutto sopite in Cosa Nostra. Questa è una sentenza di assoluzione, ma queste sono parole di fuoco. Siamo qua appunto con Luana. Per questo dunque venne garantita al capo di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, una protezione soft da parte del Ross, lo stesso Ross che avrebbe potuto e dovuto catturarlo quando un coraggioso informatore Luigi Lardo, papà di Luana, il 31 ottobre del 95 glielo portò su un piatto d'argento e invece non lo fece. Eppure al processo per la mancata cattura di Provenzano, conclusosi con l'assoluzione di Mori e di un altro Ross o Binu, nessuno degli imputati si sognò di difendersi affermando di aver puntato sul cavallo Provenzano e quindi di averci innestato un dialogo per motivi di interesse generale. Perché non l'hanno mai detto? Eppure sulla base, successivamente a quei fatti, pochi anni dopo, tre anni dopo aver iniziato la sua attività di infiltrato, Luigi Lardo quando è sul punto di passare a diventare collaboratore di giustizia viene ucciso. E Luigi Lardo stava per svelare alla magistratura, aveva già dato delle anticipazioni al carabiniere che l'aveva preso sotto la sua ala, le connessioni politiche della mafia con Forza Italia, le divisioni interne in Cosa Nostra, le connessioni tra i presunti burattinai della strategia della tensione neofascista e le stragi mafiose del 92-93, il nuovo buscetta secondo il giudice di Matteo. Chiudo parlando ancora di una cosa secondo me importante, sullo spaccato del cosiddetto Stato mafia in questo momento stanno succedendo determinate cose a livello processuale, una molto importante che non è stata sufficientemente ricordata dai media è il respingimento della richiesta di archiviazione avviata dalla procura dell'indagine sui presunti mandanti esterni delle stragi della procura di Caltanissetta da parte del GIP del Tribunale di Caltanissetta appunto Graziella Luparello che ha chiesto, che ha sollecitato una nuova attività istruttoria procedendo se necessario a nuove iscrizioni nel registro degli indagati e si indaga appunto, si dovrà indagare, la delicata tematica dell'interazione tra associazioni mafiosi, mafiose, destra eversiva, servizi segreti, massoneria. Tra i 32 spunti per nuove indagini appunto forniti dalla Luparello alla procura ci sono la presunta costituzione di un nucleo trasversale occulto allevato all'interno della questura di Palermo e il SISD che potrebbe aver avuto un ruolo importante in diversi omicidi eccellenti nelle stragi di Capaci e di Via D'Amelio e, attenzione, l'eventuale presenza nella filiera stragista di un anello di carattere politico individuabile in un personaggio in un partito che potrebbe aver concorso a definire la strategia della tensione allo scopo di legarsi in un reciproco d'out-des a Cosa Nostra e ad attingere al bacino elettorale che debitamente orientato dall'organizzazione mafiosa era appartenuta a quella di C con cui Rina, dopo ricorderete il maxiprocesso, aveva chiuso ogni finestra di dialogo e quindi occorre approfondire i legami tra Berlusconi, Dell'Utri e personaggi di spicco di Cosa Nostra. Chiudo con un ultimissimo dato, appunto il dato educativo, quello che mi sta molto a cuore perché questo libro si intitola La mafia non è una cosa da adulti, con la mia attività provo a far entrare questi elementi, questi temi all'interno delle scuole. Io mi chiedo, in un'Italia colonizzata dal potere mafioso, da logiche nepotistiche clientelari, in particolare nelle regioni in cui i mafiosi spadroneggiano dal punto di vista dell'influenza pratica, economica e culturale, i ragazzi, le nuove leve, le nostre nuove leve, chi li può salvare se non la scuola? Chi può rimediare alle nefandezze sistemiche in cui sono stati inglobati, alle logiche familistiche che si tramandano di generazione in generazione, soprattutto in quei luoghi, soltanto la scuola. Ecco perché lo studio della Costituzione, la storia recente del nostro paese, l'educazione civica fatta bene non come viene fatta adesso perché l'educazione civica in questo momento è una materia fantasma all'interno delle scuole. La storia della lotta alla mafia, questi temi devono entrare organicamente nelle scuole di ogni ordine e grado perché la scuola deve, è arrivato veramente il momento di far fare alla scuola un salto di qualità, di abbandonare i vecchi retaggi, la pavidità nell'affrontare questi temi che sono scomodi e divisivi soltanto per chi non ha la capacità di contestualizzare e discernere la verità storica dal complottismo, perché queste che vi ho inucleato sono tutte verità storiche. Per piegare l'antistato e concludo, questo è il mio personalissimo pensiero, un antistato che si è preso il nostro passato e continua a tediare il nostro presente prendendosene brandelli tutti i giorni, bisogna togliergli le forze fresche e quindi portare il futuro dalla nostra parte. Questo è il messaggio più importante che intendo lanciare con questo libro. Grazie mille. Grazie, veramente grazie al dottore Stefano Vaudino. È bene che le istituzioni ascoltino le sue parole perché è il primo che deve ascoltare il legislatore ed è anche il primo che deve studiare. E questo libro è veramente prevenzione allo stato puro. Io adesso mi ricollego, quanto lei diceva, e lascio la parola a Luani Lardo, figlia dell'infiltrato Luigi Lardo, ucciso a colpe di pistola il 10 maggio 1996. Luigi Lardo, inizialmente capo mafia di Catanistetta, aveva deciso appunto di cambiare vita per sé, per la propria famiglia e si era messo a disposizione dello Stato agendo come infiltrato all'interno di Cosa Nostra. Pochi giorni prima di diventare collaboratore di giustizia ed entrare ufficialmente nel programma di protezione fu ucciso. Luana lo ha visto morire ammazzato tra le sue braccia e da allora ha iniziato la sua battaglia per chiedere verità e giustizia. Io ci tengo a precisare che io sono con lei in questa battaglia. Grazie di cuore di essere qui e le lascio la parola. Grazie. Ovviamente grazie a voi. Apro questo mio intervento ringraziando l'onorevole Stefania Scari, non perché oggi ci ha dato la possibilità di essere qua, ma per tutto quello che è sempre fatto a difesa dei più deboli. Non solo in termini di lotta alle mafie e la criminalità organizzata con il suo egregio, costante operato e impegno in Commissione parlamentare antimafia, ma anche per la tutela e la difesa che è sempre riservato ai diritti degli ultimi. Infatti è importante ricordare tutte le riforme e le proposte da lei costantemente avanzate a salvaguardia delle categorie deboli come disabili, minori, donne, lavoratori e classi sociali in difficoltà. Le vittime di mafia con la riforma del 2001 che darebbe giustizia a tante vittime di mafia che si trovano nella posizione mia e della mia famiglia. Oggi il suo lavoro le dona merito come una delle poche figure che riescono a dare orgoglio e fiducia al conforto della classe politica di questo Paese. La Costituzione e la democrazia di questo Paese nasce e si fonda dando potere ad un unico garante, chiamato Stato, e il suo dovere principale è vigilare e assolvere le necessità del popolo, tutto il popolo. Era più che doveroso da parte mia sottolineare quanto detto. Io sono Luana Elardo, figlia di Luigi Lardo, l'infiltrato che collaborò per due anni con le istituzioni, due anni in cui le sue dichiarazioni e il suo doppio gioco posto in essere nell'ambiente di Cosa Nostra permise ad alcuni uomini onesti l'arresto di una cinquantina di criminali, tra cui ben sette capi provincia del Gota di Cosa Nostra. Come più volte detto pubblicamente dal grande magistrato Nino Di Matteo, un risultato mai ottenuto sin d'ora da nessun altro collaboratore di giustizia. Collaboratore di giustizia, un appellativo che oggi ricorre sempre quando si parla di mio padre, un appellativo che gli è stato appiccicato addosso dall'opinione pubblica e non da questo Stato, perché dovete sapere che mio padre venne ucciso soli tre giorni dalla sua, dalla nostra entrata nel programma di protezione. Tutela, che non solo ci avrebbe garantito i diritti spettanti e previsti dalla legge, ma avrebbe soprattutto fatto identificare noi figli e familiari come parenti di un collaboratore di giustizia, e non come oggi qualcuno si permette ancora di dire il mafioso Luigi Lardo. Per la morte di mio padre vi è stato un processo dove, come sempre capita, purtroppo in questa nazione le condanne sono state messe solo per l'ala mafiosa, nonostante tutte le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia e le inconfutabili ricostruzioni del suo omicidio, dove chiara vi è altra partecipazione. Invito voi tutti ad ascoltare la ghiacciante requisitoria del dottore Pasquale Pacifico, dove si evince e si dimostra ampiamente la compartecipazione di soggetti non appartenenti all'ambiente criminale di Cosa Nostra, ma bensì soggetti pseudo-istituzionali, io non riesco a definirli diversamente, che ricorrentemente sono sempre apparsi nelle più grandi vergognose vicende del nostro paese. Mi riferisco ancora una volta a tutti quei soggetti che, nonostante abbiano un'identità precisa e dei chiari nomi e cognomi come Mario Mori, Antonio Subranni, Mario Bino, De Donno, Marcello Dell'Utri, Silvio Berlusconi e tanti altri che, nonostante le prove emerse ad oggi, dove in dubbio è la loro presenza in coinvolgimenti diretti con ambienti mafiosi, non solo non hanno mai pagato nei diversi procedimenti dove vi era imputata la loro ambiqua presenzialità, ma quasi sempre sono stati anche puntualmente assolti, in ultimo qualche mese fa, nel secondo grado del processo e la trattativa Stato-mafia. Il 2 agosto, in un'Italia distratta dal torri do caldo e dal profumo delle vacanze, nel totale silenzio de media, non a caso siamo in un paese posizionato al 75esimo posto in classifica per la libertà di stampa, a distanza di quasi un anno, tempo biblico, forse è servito parecchio impegno per scrivere tanto di abberrante e inaccettabile, ci viene detto che scendere a patti con la mafia si può, non è reato. Con queste motivazioni depositate si è ammesso il perché del mancato arresto del 95 del latitante numero 1 e questo punto falsamente ricercato da 43 anni, Bernardo Provenzano. Sottolino anche che gli stessi soggetti, gli uomini del Rosso, subendo processo nel 2013 proprio per il mancato arresto di Bernardo Provenzano, sotto giuramento, in un'aula di tribunale negarono sempre l'esistenza di questi accordi, addebitando il fallimento delle operazioni a causa di condizioni avverse. Veritas figlia temporis, la verità è figlia del tempo, conferma arrivata in quelle motivazioni depositate ad agosto, dove ci viene spiegato che la tutela, cito testualmente, soft di quella latitanza fu una tecnica strategica per mantenere equilibri pacifici a beneficio della nazione. Peccato che proprio per queste tecniche nascoste e tenute segrete siano state la vera condanna a morte di mio padre, che insieme ad uno dei migliori colonnelli maturati al servizio del generale della Chiesa, il colonnello Michele Riccio, ignoramente, inconsapevolmente, tenuti entrambi all'oscuro di questa nefasta trattativa, ne subirono il pesantissimo conto. Infatti portando quei rossa, quei soggetti pseudo-istituzionali nella masseria dove Provenzano risiedeva, a questo punto risulta anche impreciso utilizzare il verbo nascondeva, non una, ma ben tre volte, firmarono l'inevitabile condanna a morte di mio padre ed una vera e propria persecuzione dello stesso colonnello Riccio, che si culminerà addirittura con il suo arresto, addotto presumibilmente a reati costruiti, che altro non erano che una punizione a seguito delle denunce da lui esposte nei confronti dei suoi superiori, quando chiaro gli fu la trama di quell'accordo che a lui stesso, alto uomo e grado dell'arma, gli era stata nascosta. Luigi Lardo non era più un mafioso, era un uomo che aveva per intero pagato il suo debito con la giustizia, non dovendo necessitare di sconti pena o benefici vari, che maturò la sua scelta verso lo Stato solo per una prepotente voglia di riscatto in una vita nuova per sé e soprattutto per noi figli, maturata da un profondo senso di disgusto, come lascerà scritto in alcune sue intime lettere di sfogo, per la macchina infernale di morte che Cosa Nostra in quel periodo, più che mai dopo le stragi di innocenti, era diventata. Luigi Lardo fu quell'uomo che in epoche non sospette, quando nessuno sapeva o poteva mai pensare ad un processo trattativo a Stato mafia, svelò nel lontano 93-94 questi accordi possenestere tra mafiosi, criminalità organizzate, fazioni politiche, falsi esponenti istituzionali, servizi segreti, strutture avversive e logge massoniche. Infatti, finiti i nomi dei mafiosi, fece nomi e soprattutto i cognomi di questi soggetti, colletti bianchi intoccabili. Per questo fu necessario chiudergli velocemente la bocca, prima di entrare in regime di protezione e poter raccontare a tutti la scabrosa verità di cui era conoscenza. Alleanze create, istituite e finalizzate alla raccolta di voti, affinché un determinato partito politico raggiungesse la maggioranza, l'assoluto potere, la protezione di eventuali e futuri attentati ed omicidi, in cambio di compiacenti favori che arricchivano e crescevano gli interessi economici degli stessi, ma anche le agevolazioni legislative che rendevano sopportabili i regimi carcerari, la protezione dei loro sporchi capitali, l'allentamento sulla stregua e la lotta contro la mafia. Non a caso il grande giudice Roe, Paolo Borsellino, ci lascerà una frase emblematica su questa connivenza. Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Parole profetiche, direi, soprattutto dopo aver letto quelle motivazioni, della sentenza che hanno letteralmente umiliato l'immensa onestà della sua vita, lavorative di dignità personale. Paolo Borsellino presumibilmente è morto perché aveva scoperto quella trattativa tra lo Stato e la mafia, avrebbe fatto ogni cosa ed azione in suo potere per denunciarla, fermarla. L'attentato a Capaci su cui indagava e gli portò via il suo fraterno amico, il giudice Giovanni Falcone, aveva la stessa paternità, gli stessi mandanti estranei a Cosa Nostra. D'altronde, quali mafiosi potevano sapere gli esatti orari spostamenti del giudice antimafia più protetto e scortato d'Italia? Con ogni probabilità anche stavolta si trattava di uomini che senza nessuna vergogna hanno offeso le promesse di fedeltà fatte al nostro Stato, tradite le divise indossate, disonorato i giuramenti fatti. Il sacro che si fonde con il profano, lo Stato con dentro al suo interno un antistato. Un germe infetto, come ci dice il dottor Di Matteo, che se non debellato del tutto continuerà a condizionare il nostro domani, il futuro di tutta la nostra Repubblica. Questo è il paese della strage, il massacro di Stato di Portella della Ginestra. Questo è il paese dove gli stessi politici colleghi non salvarono su ordini atlantici Aldo Moro, solo per impedire un accordo con la sinistra e la sua ulteriori ascesa politica. Questo è il paese dove per anni uomini come Pio Latorre, Piersanti e Mattarella avranno come unici assassini billani mafiosi. Serviranno decine di anni per confermare responsabilità di un sistema criminale integrato, il famoso quarto livello. Questo è il paese dove il generale della Chiesa, dopo aver avuto massimi poteri per sconfiggere le Brigate Rosse, venne depotenziato e lasciato solo, forse non a caso, a combattere la mafia a Palermo. Questo è il paese di Leonardo Vitale, che verrà chiuso in manicomio quando inizierà a raccontare da primo collaboratore di giustizia le sue verità. Questo è il paese dove Tommaso Buscetta permetterà con le sue attendibili dichiarazioni l'istruzione del più grande processo per mafia e verrà letteralmente zittito e screditato quando parlerà della collusione di Andreotti e altri referenti politici, come oggi invece la storia ci conferma. Questo è il paese dove non sono abbassati i 30 anni per avere anche parzialmente una benché minima verità riguardo le strage e i suoi mandanti. Questo è il paese dove i poliziotti verranno accusati e processati per aver creato un pentito da laboratorio per depistare la verità sulla strage di Via D'Amelio e rimane lo stesso paese dove essi verranno assolti per prescrizione. Questo è il paese dove Nino Gioè, un futuro collaboratore di giustizia che avrebbe fatto dichiarazioni sconvolgenti riguardo le stragi, venne trovato suicida con una corda al collo allegrate della sua cella, posizionata su un tavolo immacolato e rimasto apparecchiato di tutto punto, nonostante fosse stato il suo trampolino d'impiccagione. Questo è il paese dove Luigi Lardo e tanti altri Luigi Lardo hanno perso la vita e soprattutto ben compreso che chiunque tocchi i fili dell'alta tensione finisce morto oltre ogni ragionevole dubbio. Colpirne uno per tappare la bocca ad altri cento. Questo è il paese dove un urologo di eccellenza verrà ucciso da soggetti non criminali o meglio riconducibili ai servizi segreti solo per aver visto ed operato il garante della trattativa Stato-mafia, Bernardo Provenzano, che da ricercato si recò a Marsiglia per subire un'operazione alla prostata pagato e convenzionato dal nostro sistema sanitario nazionale. Ovviamente mi sto riferendo alla storia di Attilio Manca. Questo è il paese dei fratelli Graviano che, seppur mai diventati collaboratori di giustizia, sono riusciti a procreare figli con le loro moglie e regime di 41 bis. Questo è il paese dove tutti i grandi procedimenti, i processi che toccano quei famosi figli dell'alta tensione e quei colletti bianchi finiscono a tarallucce e vino, nel silenzio assordante di tutte le istituzioni e magistrature. Vedi lo scandalo montante, o quello di Palamara, casi che in un vero Stato di diritto avrebbero causato una rivolta nazionale. Questo è il paese dove un ex magistrato come il dottore Scarpinato continua a denunciare, anche dall'interno del Parlamento, dove oggi siede, tutte le collusioni tra mafiosi, politici, servizi segreti, deviati, massoneria e senza raccogliere non solo nessun sentimento di stupore per chi lo ascolta, ma neanche nessun applauso di consenso né dalle destre né dalle sinistre. Questo è il paese dove si celebra il trentennale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, umiliandone e calpessandone la memoria, con il letterale smantellamento di quelle leggi che portano il sangue di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, delle elezioni vinte a Palermo con soggetti sponsorizzati a chi comprovatamente ha avuto rapporti stretti con la criminalità organizzata. Il bel paese dove non si ha vergogna a candidarsi politicamente nonostante le condanne e le detenzioni espiate per concorso in associazione mafiosa. Questo è il paese dove oggi ci giustificano fin di bene una trattativa che di fatto non ha fermato le successive stragi del continente e non ha protetto e salvato la vita decine e decine di uomini, tra cui mio padre e Paolo Borsellino. La storia di due uomini, uniti probabilmente e traditi dallo stesso anello di congiunzione tra Stato e mafia, il procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Giovanni Tinebbra. Questo è il paese dove oggi 40 parlamentari, tra deputati e senatori, hanno pendenze con la giustizia, ma impedisce ai figli maschi di Luigi Lardo, che avevano solo nove mesi quando il loro papà morì, di poter fare un concorso per arruolarsi nelle forze dell'ordine, seguire l'esempio, le orme tracciate dal loro papà, dando un senso, una dignità e speranza a quella morte che hanno subito. Questo è il paese con un altissimo spreco di denaro pubblico. Non ultimo è il bonus di Natale di 5.000 euro attessa per i nostri governanti, che però decide di risparmiare togliendo di nuovo la scorta a Pino Masciari, dopo che è stata la storia, l'esempio, il coraggio di denuncia per tutti i testimoni di giustizia. Voglio però concludere con un messaggio di speranza. Questa mia partecipazione di oggi, ricordando che siamo il paese di tanti eroi martiri, di tanti uomini morti per aver combattuto davvero la mafia. Siamo il paese di uomini e ragazzi come Stefano Bauduino, come uomini come Salvatore Borsellino, delle Agende Rosse, di Stefania Scari, di Alessandro Di Battista, di Nicola Morra, di Sebastiano Ardita, di Nino Di Matteo, di Nicola Gratteri e di tutti quegli onesti che oggi senza alcuna paura continuano a lottare portando la verità in ogni dove. E dico che è proprio per questo, per loro che dobbiamo continuare a lottare e soprattutto a resistere. Grazie. Grazie, grazie mille a lei. La sua presenza oggi è molto importante. So che è presente l'avvocato felice Centineo e collegandomi proprio al suo ultimo invito vorrei lasciarle appunto la parola. Buongiorno a tutti. Grazie onorevole Ascari, grazie a Luana Ilardo che ormai da anni stiamo lottando per far ottenere giustizia a lei e alla sua famiglia ma non soltanto a lei e alla sua famiglia ma a tanti altri soggetti che si trovano in questa stessa situazione. Da tecnico, da giurista io non voglio mai prendere, tento di essere sempre apolitico ma ricollegandomi a quello che diceva il dottor Baudino di cui non ho letto ancora il libro ma che leggerò con grandissimo interesse ritengo che al di là di qualsiasi sia l'ideologia politica bisogna che ci sia un minimo comune denominatore di cultura della legalità, di cultura dell'antimafia e della criminalità organizzata perché oggi non parlerei più di una semplice mafia e proprio sempre ricollegandomi a quanto detto al dottor Baudino vorrei anche introdurre il concetto del sommerso che era il concetto della strategia migliore per la criminalità organizzata e per la mafia che è quel sommerso che aveva disarcionato Tommaso Buscetta rappresentando quello che era il teorema Buscetta e istituzionalizzando la mafia dove quindi mafia e antimafia sono diventate due istituzioni che a quel punto una si combatteva contro l'altra e lì è stata la vera debacle della mafia ma poi con la teoria proprio di Provenzano e lo scontro che c'era stato poi tra i due capi si è ritornati nel sommerso e oggi c'è di nuovo una criminalità organizzata dilagante nel sommerso e la pandemia, la crisi economica sono l'infe, come l'infe sono le vittime di mafia io ritengo che Luanilardo, io come assisto tutte le vittime delle stragi di Capaci, Vida Medio quindi tutti quei processi a cui lei faceva riferimento, l'ordinanza della dottoressa Luparello la sentenza non sa con che dispiacere sentire il dispositivo di assoluzione anche se per prescrizione nella sentenza del depistaggio per chi ha veramente combattuto è stato anni a lottare su determinati valori il dispiacere e ho visto come sono rimasti i Pietra, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino che erano lì presenti in quell'aula e ora bisogna continuare a lottare ma oltre a lottare e accertare le responsabilità bisogna evitare che la mafia abbia nuova linfa e la nuova linfa se lo Stato non interviene correttamente si ha anche dalle stesse vittime proprio per quel concetto di Stato e antistato di cui parlavo pochi minuti fa Luanilardo per me è una vittima di mafia una vita di mafia particolare come la sua famiglia e come tanti altri e aver ottenuto alcuni riconoscimenti alcuni già siamo riusciti giudizialmente poi tramite il Ministero dell'Interno perché bisogna anche vedere il bicchiere mezzo pieno l'Italia ha un'ottima legislazione antimafia ha anche di supporto alle mafie spesso non viene conosciuta spesso ti scontri con una burocrazia che devi disarcionare, devi combattere ma lì dico uno lo può fare tranquillamente però poi ci sono dei muri ed è uno dei muri che stiamo tentando di abbattere con l'onorevole Ascari con un disegno di legge presentato nel 2021 il 2896 se non sbaglio presentato dall'onorevole Ascari a cui ho tentato di collaborare per la sua redazione proprio sul riconoscimento dello status vittime in mafia perché già abbiamo una legge che è ottima la legge 302 del 90 con le sue successive modificazioni ma lì ancora c'è un grande bonus quello che per tentare di evitare che soggetti vicini alla criminalità organizzata si è messo un palo, un paletto ma questo paletto il rimedio forse è stato peggiore del male perché mettendo l'introduzione del concetto che la vittima può ottenere i benefici anche come nel caso di Guana non solo nel caso di vittime innocente aborigine ma anche nel caso di dissociazione come il caso di Luigi Lardo motivo per cui deve essere considerato vittima di mafia magari possiamo trarre i termini innocente perché ha avuto un suo passato ma ha saputo rompere la legge prevede anche il concetto di dissociazione poi viene messo un altro paletto parenti e affini entro il quarto grado non devono aver riportato condanne ora, prima di tutto che ognuno di noi possiamo rispondere se fossimo vittime di quello che un nostro cugino un nostro zio con cui magari non abbiamo rapporti che non sappiamo neanche dove vive per questo essere coinvolti c'è già un concetto nella legge la totale estranità dell'istante o della vittima ad ambienti o rapporti delinquenziali quello è un concetto che secondo me protegge tutti in ogni caso vogliamo anche mantenere il quarto grado e lì perché poi naturalmente devi contemperare tante esigenze con Stefania abbiamo tentato di contemperare tutte le esigenze abbiamo presentato un disegno di legge dove diciamo almeno amministrazione pubblica ministero dell'interno quando fai questa valutazione anche sul quarto grado sui parenti o affini almeno dimostraci perché il soggetto sia meritevole del beneficio o meno ma c'è almeno un rapporto di fatto socio-economico tra l'istante e quel parente e quella fine di quarto grado perché qual è la finalità della legge? uno deve vedere sempre il fine teleologico della legge il fine qual è? quello di evitare di rimpinguare la criminalità organizzata con soldi dello Stato ma stiamo attenti quello che può essere l'opposto se io che sono stato vittima e che magari ho detto no proprio perché un mio parente sono morto per cui ho accusato un mio parente perché nel caso di Uligi Lardo ha accusato tutta la sua famiglia di criminalità organizzata allora la famiglia di Lardo ha saputo mantenere i fratelli Lardo e per questo mi sono appassionato al loro caso hanno saputo mantenere la schiena dritta e non si sono piegati ma se io non ho aiuto dallo Stato qual è la probabilità che io poi mi rivolga all'antistato e sia di nuovo nuova linfa io per la criminalità organizzata questo vorrei che si ponesse un attimo l'attenzione è che gli organi legislativi provvedano con una piccola riforma a far sì che la criminalità organizzata si combatta oltre che condannando i responsabili anche togliendo nuova linfa e nuova linfa significa la nuova linfa si toglie quando tu crei economia sana e per le vittime le comuni sana è aiutarle e non far vedere uno Stato assente perché guardate che le vittime la famiglia Lardo è l'emblema di quelle vittime che si sono trovati per un lungo periodo da una parte contro lo Stato da una parte contro la criminalità organizzata lo dirò sempre che è uno dei pochi casi che mi è capitato e ne ho seguito a centinaia a causa di vittime di mafia in cui i tutori dei mafiosi che abbiamo citato in giudizio si sono costituiti in giudizio per eccepire per far sì che la famiglia Lardo non ottesse niente era rancore era volontà di distruggere di addentrare chi aveva detto no alla criminalità organizzata scusate se non era dovuto il mio intervento vi ho rubato questo tempo però introdurre questi concetti mi sembrava interessante anche per il luogo in cui siamo grazie 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 avvocato cittadino grazie mille io ci tengo a precisare che la proposta di legge è stata ridepositata mi auguro che venga calendarizzata il prima possibile perché sono condivido ogni singola parola e questo è proprio un vuoto normativo che va affrontato seriamente soprattutto dalle istituzioni io adesso lascio la parola ad Alessandro Di Battista che ringrazio sinceramente molto di essere qui per la stima personale che mi lega a lui perché la sua voce ha avuto un ruolo fondamentale molto importante nel definire l'impatto anche che il Movimento 5 Stelle ha avuto nella politica e nella società le battaglie che Alessandro condotto dentro le aule parlamentari le ha portate anche fuori la politica non si fa solo dentro i palazzi si fa soprattutto nelle piazze e tra la gente e in ciò Alessandro Di Battista è un grande esempio di integrità morale e onestà e per quanto mi riguarda massima stima grazie di essere qui a lei la parola grazie a te grazie a tutti quanti voi in effetti insomma non ho più messo piede alla Camera dei Potati da quando per mia scelta ci sono più rientrato per scelta degli elettori e c'è voluto Stefano Stefania e Luana persone che stimo immensamente proprio per le battaglie che fanno e per il coraggio io non ho più rimesso piede alla Camera dei Deputati anche perché quando ero deputato non mi piacevano gli ex deputati che bazzicavano la Camera molti di loro scroccavano la connessione nel corridoio che c'è dietro la Camera dei Deputati mostrando ostentando la spilletta da parlamentare dicendo ricordando io ho fatto parte della quattordicesima legislatura un po' come quando Fantozzi dice sono stato azzurro di sci non so se vi ricordate e poi non mi è mai piaciuto il fatto che ai cittadini comuni fosse impedito di entrare alla Camera dei Deputati mentre invece agli ex deputati sì magari molti dei quali sono ex proprio in virtù delle scelte sovrane del popolo italiano quindi per questo non ci ho messo piede però sono contento di esserci tornato oggi soprattutto per aver ascoltato gli interventi per adesso di Stefano e di Luana quando entrai alla Camera nel 2013 ero più giovane sì senz'altro più inesperto e all'epoca ritenevo che l'onestà fosse la qualità preponderante di un politico oggi lo penso tuttora però penso che debba essere un prerequisito guardando anche il conformismo come è tornato a dilagare soprattutto durante l'epopea del governo Draghi anche oggi durante questo governo pseudo sovranista ritengo oggi che probabilmente è il coraggio la qualità principale che dovrebbe avere un rappresentante delle istituzioni io ho fatto il parlamentare in un'epoca in cui non ci chiamavamo onorevoli ma cittadini delle istituzioni o portavoce e Stefania francamente è una cittadina delle istituzioni e una portavoce io ho imparato a apprezzarne le qualità umane morali e politiche una parlamentare forse meno mediatica di altri ma il fatto che sia stata eletta nuovamente nonostante fosse meno mediatica di altri dimostra ancora di più la sua rettitudine morale e la sua qualità politica Stefania è una parlamentare che fa battaglie a tutela delle donne contro la violenza contro le donne e battaglie coraggiose in materia appunto di lotta alla mafia non ricordo se Draghi incontrò Berlusconi dicendogli grazie per essere venuto dandogli del tu qua sopra oppure stavano a Palazzo Chigi ma credo che fosse la Camera dei Deputati ricordo che mi indignò il fatto che Berlusconi di nuovo venisse ricevuto in un palazzo così importante delle istituzioni nonostante una condanna in via definitiva per frode fiscale nonostante appunto sentenze che hanno dimostrato i suoi comportamenti immorali rispetto appunto a Cosa Nostra quando decise di accettare un patto criminale per la sua per la cui intermediazione fu condannato in via definitiva Marcello Dell'Utri per concorso esterno pagando la mafia con non so quanti denari e questo lo scrive una sentenza di condanna in via definitiva rafforzando la stessa organizzazione che poi probabilmente anche grazie al rafforzamento dovuto ai denari di Berlusconi e al rafforzamento dovuto a tanti altri denari o magari a attività politiche di altri personaggi si è rafforzata a tal punto da condurre una guerra senza quartiere contro la parte buona dello Stato insieme alla parte marcia dello Stato e quindi fondamentalmente anche grazie ai denari che sono stati elargiti da Berlusconi a Cosa Nostra la mafia Cosa Nostra è riuscita a compiere gli omicidi che conosciamo a danno di giudici per bene o di personaggi così importanti come il papà di Luana è sempre bene ricordarle queste cose perché il nostro non soltanto è un paese piuttosto scarso nella sua capacità di ricordare ma poi è un paese molto molto ipocrita io anni fa mi ricordo andai alla trasmissione di Fabio Fazio che è una trasmissione più conosciuta che tempo che è fatto molti ascolti e dissi questo è un paese ipocrita se dici cazzo Berlusconi ha pagato la mafia c'è chi si scandalizza per il cazzo io ricordo che Fazio divenne bianco iniziò subito a prendere delle istanze dicendo intanto Berlusconi l'ha querelata ovviamente non mi ha mai querelato anche perché avrebbe dovuto querelare la Cassazione quando dicemmo determinate cose reali ma in realtà io notai proprio che l'atteggiamento era quello di chiunque fa parte un po' del sistema politico, mediatico giornalistico imprenditoriale viene pervaso da una pavidità latente che poi è il problema principale oggi del nostro paese e ascoltare le parole di Luana vedere che una deputata importante come Stefania Scari ha organizzato questa presentazione vedere dei giovani giornalisti come Stefano metterci tutta l'ardore la passione del mondo nello scrivere libri del genere mi fa capire che evidentemente per qualcuno il valore coraggio la parola coraggio ha ancora un significato e il problema è proprio principale del conformismo di oggi il timore di perdere dei pezzi di carriera perdere dei denari delle opportunità che si perdono nella vita quando si compiono determinate scelte è evidente quando ci si schiera si sa che si possono perdere anche degli amici posto che probabilmente così tanto amici non lo fossero si perdono degli scatti di carriera delle possibilità di divenire anche quel che si è sempre sognati ma probabilmente in realtà c'è chi sogna anche altre cose non soltanto appunto posizionamenti noto che il problema principale nel nostro paese sono i difensori delle verità comode coloro che tendono sempre a dire ma anche si ma anche si però e non prendono mai posizioni nette e credo che le parole che ha pronunciato prima Luana non lo so hai fatto un discorso già l'hai fatto in commissione antimafia però era particolarmente toccante forse anche a me ha toccato particolarmente oggi perché rispetto a prima sono diventato papà quindi penso mi immagino che cosa possa rappresentare perdere un padre mi mettevo nei panni oggi ho dei figli forse riesco a mettermi maggiormente nei panni tuoi Luana perché sono papà e vedo i miei figli e tu sai insomma perdere e non soltanto perdere tuo padre in questo modo assassinato ma senza riconoscimenti a pochi giorni dalla possibilità di entrare in un programma di salvaguardia dei testimoni è evidente che suo papà è stato assassinato perché probabilmente avrebbe parlato non dei mafiosi che poi ogni tanto i mafiosi parlano i loro stessi perché in questo paese si pentono i mafiosi esistono i pentiti mafiosi e non esistono mai i pentiti di Stato esistono i pentiti di mafia e non esistono i pentiti di Stato pensate quando quanto poi lo Stato e la parte marcia dello Stato è così importante oggi abbiamo al governo il presidente del consiglio che cita Borsellino che cita Enrico Mattei anche negli ultimi giorni la Meloni parla di piano Enrico Mattei per l'Africa io dato che prima Luana ha parlato ha citato Tommaso Buscetta ricordo che Tommaso Buscetta preso sul serio quando parlava di mafia e delegittimato quando parlava di Stato o quando parlava di altro raccontò insomma gli aveva una sua volta detto ma era un boss importante che Enrico Mattei era stato assassinato da esponenti di Cosa Nostra Sicilia su ordine Cosa Nostra Stati Uniti che a sua volta aveva ricevuto delle indicazioni dalle famose multinazionali del petrolio le sette sorelle del petrolio insomma mi fa strano ascoltare oggi la Meloni parlare di Enrico Mattei come esempio della tutela dell'interesse nazionale parte vederla spalmarsi su posizioni uguali alla Nato rispetto alla guerra in Ucraina ma poi dimenticare appunto che va comunque a braccetto con politici o comunque con un partito che è stato fondato da un tizio che ha pagato Cosa Nostra ed un altro che ha finito in galera per concorso esterno in associazione mafiosa mi riferisco a Marcello Dell'Utri insomma non credo che Borsellino che lei cita o che addirittura durante l'epoca del Covid Salvini indossava l'immagine di Borsellino stampata sulla sua mascherina possa essere contento di tutto ciò chissà se fosse in vita che cosa potrebbe pensare nel guardare appunto determinati uomini politici ricorderete l'ultima intervista fatta ai giornalisti francesi di Borsellino stesso che parlava di Dell'Utri che parlava di Mangano e credo che questo è un po' un tratto distintivo anche della politica di oggi che è fondamentalmente molto legata all'ipocrisia tuttora in questa Camera dei Deputati è stata approvata la legge cartabia che è tuttora in vigore nonostante poi sia stata anche come dire in tanti si stanno rendendo conto della porcata che è stata quella legge però è tuttora in vigore quando ascolto magistrati come Gratterio o Nino Di Matteo sostenere che il problema principale anche rispetto alla lotta alla mafia è che i colletti in bianchi non ci vanno in galera e spesso e volentieri la mafia senza l'appoggio della politica guardate io ho fatto il parlamentare mi sono occupato anche della scelta delle liste in determinati momenti mi ricordo che già Roberto Casareggio ci diceva sempre se c'è un dubbio non c'è alcun dubbio in senso se c'è qualche persona chiacchierata meglio non siamo costretti a candidare non siamo costretti a candidarci sempre mi sembrava proprio un modo superandi sano per permettere a una forza politica di crescere senza stare dietro al consenso al consenso al controllo del territorio nel senso negativo il controllo della conoscenza della trasparenza e mi sembrava proprio una scelta sana e io so perfettamente che senza l'appoggio della politica le mafie non avrebbero nessuna la valenza che hanno tuttora senza il tema della corruzione la possibilità di corrompere o senza la corruzione moderna perché anche questo cerco di dirlo da anni guardate che è molto difficile oggi trovare un politico con una bustarella con dentro 10.000 euro non si trovano più e si sarebbero tutti per accottare oggi la corruzione viaggia su altri livelli le conferenze anche le conferenze internazionali politici che magari fanno conferenze internazionali che magari come dire non hanno condotto determinate battaglie in cambio quando escono dal Parlamento magari perché trombati dai cittadini ricevono consulenze milionari dalle banche d'affari da gruppi di potere oppure gettoni per tenere delle conferenze a destra a manca strapagate ma questo è qualcosa che dovrebbe essere regalamentato come conflitto di interessi a che fare con il tema della corruzione perché ripeto oggi nessuno più in cambio di un emendamento qua sopra e poi arriverò pure agli emendamenti localistici ti dà una busterella con 10.000 euro dentro non lo fa più nessuno grazie a Dio si sono come doping antidoping nel calcio si sono le tecniche le hanno affinate i corruttori a proposito sempre di denari perché qui abbiamo stato appena approvato una finanziaria che sembra per me una finanziaria piuttosto di sistema gentiloniana la definirei più o meno fa quello che chiede l'Europa mettendo il massimo dei denari giustamente sul caro bolletto anche se altri paesi hanno fatto molto molto di più soprattutto in rapporto alla tragedia che sta vivendo la pubblica opinione ma poi cerca di togliere dei quattrini a disgraziati tagliando sul reddito cittadinanza io ricordo quelle intercettazioni un paio di anni fa in cui due boss vennero intercettati uno disse all'altro parlavano della difficoltà di ottenere nuovi soldati cioè spacciatori in strada capaci di rafforzare organizzazioni criminali uno disse all'altro adesso questa minchia di cittadinanza è molto più difficile cioè io ricordo quando facevamo battaglie non soltanto in Sicilia perché la mafia sta ovunque a cominciare dalla Lombardia dal Piemonte e dalla Emilia Romagna però ricordo quando noi sostenevamo guardate che parte il fatto che il reddito cittadinanza serve perché in epoca di robotica automatizzazione leggetevi quello che dice Masch guardate la piena occupazione non ci sarà più è una chimera è un'illusione non ci sarà più la piena occupazione per cui serve per questo ma guardate che è anche uno strumento per evitare che le mafie possano continuare a rafforzarsi e ottenere bassa manovalanza con pochi spiccioli cioè questa era anche una logica e oggi vedo ripeto chi descrive Borsellino come se lo mette nel proprio pante un politico personale intervenire tagliando fondi alla polizia penitenziaria con tutto quel che concede prima citava Luana Ilardo il paese in cui i fratelli Graviano riescono a procreare a mettere incinta le proprie mogli in carcere al 41 bis è una roba è una barzelletta è una roba è una barzelletta e noi tagliamo anche se 70 milioni di euro sulla polizia penitenziaria quando il ministro Salvini ha sempre detto urbi e torbi quando arriverò io assumeremo un numero maggiore di poliziotti della penitenziaria perché c'è bisogno e c'è bisogno e poi la cifra che viene tagliata sul reddito di cittadinanza circa 700 milioni di euro è pari non solo all'ultima versione perché magari cambiano però dalla versione che è uscita ai denari che il governo ha messo a disposizione per i cosiddetti emendamenti localistici che all'epoca mia quando il movimento era particolarmente politicamente scorretto chiamavamo marchette dei parlamentari cioè qua sopra che c'è la commissione bilancio e finanze viene approvata in sedute notturne fiume la finanziaria o leggi di bilancio notoriamente il governo spesso anche per tenersi buoni qualche parlamentare sia critici all'interno della maggioranza che dell'opposizione magari sistemici metta a disposizione dei denari pubblici per emendamenti localistici che poi il parlamentare si rivende sul proprio territorio per essere poi a sua volta rieletto nuovamente ovvero magari 30 milioni di euro per un'opera 25 per un'altra 4 per un'altra delle marchette elettorali che un tempo noi volevamo proibire oggi vedo che la cifra che sta messa a disposizione sarà circa 800 milioni di euro esattamente quello che si ritiene di poter risparmiare tagliando sul reddito di cittadinanza tra l'altro tagliando sulla categoria degli occupabili e ricordo che circa il 20 per cento di coloro che percepisco il reddito di cittadinanza lavora solo che ha paghe da fame allora interveniamo sulle paghe da fame interveniamo sui controlli e no mentre i controlli non devono essere fatti cioè vedere nel paese che ha citato Luani Lardo degli scandali di mafia del paese che esulta e che dice che il processo sulla trattativa è stato inutile quando ha portato a delle condanne a mafiosi grazie a Dio è stato fatto ora il fatto che fossero già alcuni deceduti o altri già condannati per altri reati che significa non dovevano essere processati cioè anziché dire grazie ai giudici antimafia a cominciare a Di Matteo che hanno permesso delle condanne no non doveva essere fatto perché sono stati assolti i politici poi anche qui è da barzelletta cioè è un reato per i mafiosi trattare con lo Stato ma non è un reato per lo Stato trattare con i mafiosi pensate che considerazione che lo Stato ha di se stesso insomma in questo paese da mesi il problema principale sono diventati i percettori del reddito cittadinanza non la corruzione mascherata o la legge cartabbia che con il sistema dell'improcedibilità sostanzialmente peggiora addirittura il criterio della prescrizione non il sommerso della grande evasione fiscale non il controllo fondamentale che hanno anche rispetto a molti appalti alle costruzioni alle organizzazioni criminali ha cominciato la campagna ma ripeto anche e soprattutto in Emilia Romagna non il fatto che nessuno nessuno ha pagato cioè nel nostro paese non è stato perquisito il covo di rin e nessuno ha pagato è stato assassinato Luigi Lardo e nessuno ha pagato cioè non ci stanno mai mandanti nel paese in cui tutte le principali stragi di mafia sono andate di pari passo poi con qualcosa che dovremmo ricordare ogni giorno che si chiama appunto depistaggio non vi è stata una grande strage non soltanto di mafia una grande strage nel nostro paese non sia stata caratterizzata da depistaggi di stato significa che il problema principale del nostro paese non è la mafia è lo stato o parte di esso ovviamente non tutto parte di esso quello stato che ha brigato insieme alla mafia ma spesso ha ordinato alla mafia di brigare venendo da un potere preponderante rispetto alle organizzazioni criminali stesse per nascondere poi i reali mandanti di stragi durante l'epoca della strategia della tensione cioè il problema principale è questo e si può scardinare come io non lo so io ci ho provato pure da parlamentare è stata dura poi siamo arrivati al governo certe cose non sono andate bene anche perché questo Stefania lo sa e invitando me sa perfettamente quello che ho pensato della legge Cartabia e sa perfettamente che io ritenevo che lì il Movimento 5 Stelle avrebbe potuto far cadere il governo Draghi sulla legge Cartabia stessa identica cosa che pensa anche il procuratore Gratteri però viva la faccia che ci siano parlamentari come Stefania che ci siano persone coraggiose come Luana giovani ripeto giornalisti giovani nel senso soltanto dal punto di vista anagrafico Stefano perché tu hai una conoscenza così vasta delle materie che tratti come Stefano che scrivono che hanno voglia di scrivere di girare per le scuole io penso che forse l'unica soluzione sia insistere forse una goccia che potrà bucare la roccia in futuro noto che oggi è molto più difficile di prima che il conformismo ce l'abbiamo alle stelle che le problematiche economiche e sociali che vivono le famiglie o leggo l'inflazione al 12% ma quale 12% la maggior parte delle cose necessarie per la nostra vita sono aumentate del 30, 40, 50, 60% quindi parlare di mafia ricordare il lardo ricordare il processo di trattativa il conflitto di interesse ogni tanto ad intivoli di guardare il problema è il conflitto di interessi e sembra sempre parlare quasi al vento ma non sono cose che interessano come altre questioni ma in realtà il conflitto di interessi ha a che fare con la corruzione quindi ha a che fare con la mafia quindi ha a che fare con la mala politica quindi ha a che fare con lo Stato deviato quindi ha a che fare con le nomine di Stato che guardate lo dico con cognizione caso perché ci sono stati in Parlamento oggi un nominato e non vengono nominati soltanto gli amministratori delegati di Eni Finmeccanico Enel ma di svariate municipalizzate partecipate di Stato singole diciamo altri tipi di nomine che sono a migliaia detengono un potere di gestione di intervento sulle nostre vite maggiore dei parlamentari della Repubblica che devono come nel caso di Stefania da mesi e mesi elemosinare la possibilità che venga calendarizzata una legge importante come quella che ha presentato perché? perché poi anche questa è l'enorme ipocrisia che viviamo oggi ora siamo all'interno della Camera dei Deputati ma la nostra non è più una Repubblica parlamentare ormai da decenni anzi fondamentalmente dal primo governo Berlusconi del 94 cioè non lo siamo più i parlamentari hanno un potere estremamente ridotto decide tutto il governo e addirittura quelle leggi presentate da parlamentari volutamente non si vuole far funzionare la macchina parlamentare questa storia del bicameralismo che non funziona è una grandissima minchiata viene poi trasformata grazie a Dio su questo l'abbiamo detto oppure io sono d'accordo con quello che ha fatto il governo Meloni in un decreto dal governo Meloni perché dice la macchina parlamentare non funziona ma non lo vogliono far funzionare perché un Parlamento capace di funzionare davvero magari essendo meno in conflitto interesse perché numericamente più sostanzioso potrebbe approvare quelle leggi che all'interno il Consiglio dei Ministri non possono mai per la logica dei vedi incrociati delle forze politiche passare ho fatto un discorso piuttosto generale questo soltanto per dire che i problemi sono tanti e come diceva Stefano forse dalla scuola si può partire si può partire dall'educazione delle più giovani generazioni e si può partire dal rafforzamento dello stato sociale per questo guardate che dove non funziona lo stato sociale dove non funziona la scuola la sanità dove non vi sono misure a sostegno della disoccupazione di coloro che sono impossibilitati a trovare un lavoro che voglio vedere gli occupabili 55 anni trovare un lavoro oggi lo voglio vedere quanto è difficile ecco senza uno stato sociale è evidente che le mafie verranno rafforzate e a loro volta avranno dei denari per sostituirsi a quello stato sociale che non viene garantito dallo stato cioè è un circolo vizioso drammatico terrificante che giova poi a una parte della classe politica che grazie all'assenza dello stato ma ai denari che la mafia può mettere a disposizione per sostituirsi a uno stato sociale mancante e in cambio regalare relegando tantissimi pacchetti di voti agli stessi politici è un sistema che tende a reiterarsi e questa è la cosa principalmente preoccupante ma io continuo ad essere ottimista se dopo il discorso di Luana leggermente meno sperando appunto che quello che non siamo stati anche riusciti a fare noi lo possano fare parlamentari capaci come Stefania giovani come Stefano e altri attivisti per la legalità come Luana grazie a tutti grazie 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 tra cui il caso ilardo tra cui tanti casi che abbiamo affrontato la strage di Ponticelli via Poma Moro Pasolini Attilio Manca abbiamo scritto Nero su Bianca che per noi a seguito dell'inchiesta è un omicidio di mafia c'è tanto lavoro da fare però è fondamentale fare rete fare squadra ed essere uniti perché solo così si può andare veramente lontano grazie a Stefano Vaudino veramente grazie grazie a Luana Ilario grazie a Alessandro Di Battista grazie a tutte le persone presenti